Un intero paese senza acqua corrente per la rottura delle pompe di sollevamento causata dal ghiaccio. È accaduto a Caggiano dove il gelo imperversa dalla giornata di sabato. Da ieri mattina le utenze domestiche sono prive di approvvigionamento idrico. I tecnici del CONSAC, azienda gestore della rete idrica comunale, sono al lavoro per cercare di riparare il guasto. A causa della neve si registrano difficoltà anche per la circolazione veicolare. Malgrado il costante impegno degli operatori comunali e dei volontari della protezione civile. Scuole chiuse per neve a Polla, a Teggiano, a Montesano sulla Marcellana e come detto anche a Caggiano. Macchine spargisale in azione a Salerno dove, viste le rigide temperature, è stata avviata un'attività preventiva antigelo. In Campania i vigili del fuoco hanno effettuato 350 interventi di soccorso, la maggior parte dei quali tra le province di Napoli e Salerno, per la rimozione di alberi e piante pericolanti per via della forte ondata di maltempo.